I miei figli non hanno bisogno di altro denaro per poter vivere. I soldi derivanti dalla mia musica non avranno alcun impatto sulla mia famiglia. Meglio fare del bene al mondo. Queste le parole di Mick Jagger, riferite alla sua parte di diritti musicali dell'immenso patrimonio artistico dei Rolling Stones, valutato in 500 milioni di dollari. Il rocker più famoso del mondo, 80 anni per 8 figli, ha deciso che lascerà questa iperbolica cifra in beneficenza, consapevole che i suoi eredi hanno già una vita molto fortunata. Stesso spirito da benefattore per Mark Zuckerberg, che non lascerà il suo patrimonio, stimato in 81 miliardi di dollari, alle sue figlie. La motivazione? Far fare una vita normale alle sue ragazze. Bill Gates, tra i uomini più ricchi del pianeta, ha già fatto sapere che non lascerà tutto il suo patrimonio ai figli. In accordo con la moglie Melinda, ha invitato gli altri miliardari a lasciare alle famiglie solo la metà dei loro averi e destinare il resto ad opere di bene. Meno ispirato da nobili motivi, è Sting, che ha già fatto sapere di non voler lasciare un centesimo ai suoi sei figli. Dovranno lavorare per mantenersi, ha dichiarato l'apidario. Consapevole della vita da sogno dei suoi figli, anche Elton John ha lasciato intendere che non saranno i suoi eredi di tanto patrimonio. Ci vuole rispetto per i soldi e per il lavoro, ha dichiarato. Tra i paperoni di casa nostra in controtendenza c'è l'imprenditore Oscar Farinetti, che ha destinato i copiosi utili delle sue aziende a figli o Nicola. 620 milioni di ricavi e un utile netto tra i 5 e i 10 milioni. Niente male.